Ciao a tutti, tradimento, segnali che ti fanno capire che hai le corna. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo l'appuntamento di Torino, venerdì 13 marzo, ore 20.45, con il mio seminario dal titolo Seduzione ed Amore, il riferimento è 333 15 11 703. E ti ricordo inoltre che puoi abbonarti al canale Felicità Benessere per avere il tuo percorso di crescita personale e abbonarti al canale Massimo Terramasco per avere, cioè Felicità Benessere per avere visibilità durante le live e il canale Massimo Terramasco per intraprendere il tuo percorso di crescita personale con me e veniamo al tradimento, i segnali che ti fanno capire che hai le corna. Vuoi capire se ti stanno crescendo le corna? Non serve toccare, serve osservare quello che fa il partner. È fondamentale capire questo. Quali sono i segnali che ti fanno capire che hai le corna, che il partner ti sta tradendo? Beh, sono intanto segnali comportamentali che rappresentano tutte le variazioni di comportamento significative. Ci può essere sotto un tradimento. Cioè, se una persona era sempre incalzosa con te e diventa improvvisamente tranquilla, dolce, affabile, contenta, è probabile che ti faccia le corna e dici, ma perché? Se, diciamo, perché succede questo? Beh, succede questo per motivazioni particolari. Le motivazioni quali sono? Beh, le motivazioni sono semplicemente date dal fatto che quando una persona tradisce, in alcuni casi, può migliorare il suo comportamento, proprio per lenire i sensi di colpa e, inoltre, perché scarica da un'altra parte. Diciamole così come stanno. Scaricandosi da un'altra parte è più propenso ad essere come tranquillo e buono con te. Invece, quando uno scarica da un'altra parte, può essere più incazzoso se le cose non vanno bene. Poi, altri segnali potrebbe essere il contrario. Ecco, se è il contrario, lui era buono e diventa, o lei era buono e diventa invece nervosa, così, beh, questo può segnare un tradimento, ma nel senso che magari ha problemi dall'altra parte, ha problemi con l'amante e quindi questo lo rende ancora più nervoso e scarica con te. Cioè, in questo caso i problemi con l'amante vengono scaricati con te. Questo è un altro segnale molto importante. Quindi, detto in altri termini, se ci sono variazioni nel bene o nel male, diciamo così, nella tua relazione con te, è probabile, non è certo, che però ci sia un tradimento. Questo dovrebbe farti alzare le antennine, non soltanto le corna, anche le antennine, e capire un attimino cosa può essere successo. E a questo punto ti vengono in aiuto anche i segnali non verbali. Tu prova a accennare qualcosa parlando di tradimento, cioè, dicendo delle frasi del tipo Ah, sai che una mia collega è stata tradita dal marito e tu vedi che fa il suo tradimento. Se il suo tradimento dà un segnale di gradimento in questo modo, vuol dire che, come dire, anche lui ti ha tradita, praticamente. Oppure dà dei segnali di gradimento. Insomma, potrebbe anche essere che ti tradisce dando scarichi di tensione, cioè segnali di rifiuto. In questo caso, significherebbe che ha paura di essere sgamato. Nell'altro caso che, come dire, pensa al tradimento e quindi gli viene il piacere di averti tradito. Insomma, se parlando di tradimento dà dei segnali non verbali significativi, o in un senso o nell'altro, anche qua c'è probabilità che ti tradisca. Poi, questo è dando uno stimolo, poi ci sono delle modalità per osservare quello che fa questa persona, come si comporta questa persona, nei tuoi confronti, e soprattutto se c'è congruenza tra quello che dice e quello che fa. Cioè, se dice, cara, mi piace tanto stare con te, e lo dice toccandosi il naso, beh, insomma, diciamo che è poco probabile che gli piaccia stare con te. Poi, altre cose, se su domande, diciamo così, prima di rispondere ti tende a buttare gli occhi a destra e poi ti risponde, cosa significa questo? Questo significa che c'è la possibilità di un tradimento, per quel motivo. Beh, per un motivo molto semplice, che la parte, muovere gli occhi verso destra per le persone non mancine, significa che sta accedendo al, non sta accedendo alle memorie, ma si sta inventando, si sta creando una risposta inventata, tra virgolette. Per i mancini vale il contrario, per i mancini è la parte sinistra del loro corpo. Insomma. Ecco, quindi questo è interessante, perché è un'altra modalità per fare delle domande di processo e vedere il tipo di risposte che vengono date. Ti consente di capire se una persona ti tradisce o meno. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale. Ti ricordo l'appuntamento di Torino, venerdì 13 marzo, ore 20.45, col mio seminario Amore e Seduzione. Il riferimento è 333 15 11 703. Ti ricordo di abbonare al canale Felicità Benessere per avere visibilità durante le live, abbonamento simbolico, e abbonare al canale Massimo Taramasco per intraprendere il percorso di crescita personale con me. Ciao a tutti!